E allora lei è il signor? La papera. La papera? L'ho vista nella ghetta l'altro giorno. Allora, la vedo proprio giù, ma anzi diamoci del tuo, ti vedo stanco, ti vedo affossato, le occhiaie, e dai, e quello sai che cos'è? I rapporti e il sesso, ci dobbiamo dare una calmante. Quante volte, quante volte più o meno? Dottor, io sono un uomo sposato, quindi con mia moglie un paio di volte al giorno. Già, infatti, due volte al giorno non è da tutti, ecco, però due volte al giorno, quindi, no? Però da tre mesi ho conosciuto una ragazza, e con lei un paio di volte al giorno. Con questa ragazza, due volte al giorno. Cioè, due colamori, quattro volte al giorno. Mamma, quattro al di. Però bisogna considerare che la segretaria dell'ufficio dove lavoro io è una bella donna, con lei un paio di volte al giorno. Stato. Quindi quattro, diciamo, e due, cioè due, e quattro che riportavo, sono sei volte al giorno. Sei al giorno. Però c'è da dire che la portinaia del condominio dove abito io, me? È una bella donna. Con lei un paio di volte al giorno. Che la portinaia? Quindi sei e due sono otto volte al giorno. Otto volte al giorno? E così ti freghi con le tue mani. Con le mie mani? È anche un paio di volte al giorno. E così ti freghi con le tue mani. Lasta me la zige. E così. E così ti freghi con le tue mani. Gostava. Grazie a tutti.